È una situazione particolare che quindi amplifica le difficoltà di questa scelta. Trovo una squadra che ha appena iniziato il suo percorso ma che ha già vissuto dei picchi emotivi importanti quindi a me è il compito di restituire loro fiducia e competitività in un campionato che non accetta momenti di sosta. Il mio contratto è fino a fine stagione con la volontà da parte di tutti di cercare di raggiungere il miglior livello possibile con questa squadra e poi sperare di fare contente le persone che mi hanno voluto qui e mi hanno scelto per essere qua e soprattutto la squadra dove ci sono giocatori che meritano un'attenzione particolare perché hanno delle potenzialità da valorizzare e quindi sono tutte considerazioni che dovranno essere fatte a conclusione del mandato ma ad oggi sono veramente concentrato sul quotidiano e quindi la possibilità ogni giorno di riuscire a ottenere qualcosa di più da questo gruppo. A noi aspetta subito una sfida durissima andare a Venezia, giocare sul campo di una delle squadre più accreditate nel campionato con un precedente che fa male, quello di un esordio in Supercoppa che ha dimostrato le difficoltà di questa squadra a prepararsi complice a un precampionato particolare e degli equilibri ancora da trovare. Competente ed esigente e quindi questo è un motivo in più per essere capaci di soddisfare un pubblico come questo mi piacerebbe che questo fosse chiaro non solo a me ma anche ai miei giocatori e quindi avere l'orgoglio di difendere questi colori ma sentire anche il senso di responsabilità di farlo adeguatamente.